Tranquillo, pronto a chiedere tutto, solo di avere la coscienza a posto, di essere una persona seria, quindi sostanzialmente non ho nessuna difficoltà né parlare con loro, né parlare con i giornalisti, né fare conferenze stampa questa mattina dell'attività importante che stiamo portando avanti nell'ufficio delle relazioni col pubblico, quindi sono sostanzialmente non sereno più che sereno. Queste le dichiarazioni a caldo di Vincenzo Serraiocco, l'assessore comunale di Pescara indagato per truffa dalla procura. D'hanno intercettato stamane in occasione della presentazione dello sportello unico a disposizione delle associazioni della città operativo dal prossimo 24 settembre presso i locali dell'URP. Il giorno dopo, il 25, Serraiocco sarà in procura, come da lui stesso richiesto, per chiarire la sua posizione in merito a una vicenda da tempo definita dagli inquirenti e di cui solo oggi l'opinione pubblica ne è venuta a conoscenza da un articolo apparso su Il Tempo. Secondo i reati ipotizzati dalla PM Giampiero Di Florio, che ha già notificato l'avviso di conclusione delle indagini ed è in attesa delle decisioni del GIP, Serraiocco ad inizio del 2009 avrebbe convinto due imprenditori a versare delle quote per entrare nella Pescara a calcio, assicurando loro che si sarebbe impegnato personalmente per formalizzare il tutto davanti a un notaio. Tra il gennaio e il febbraio di quell'anno i due imprenditori versarono in due tranche due assegni per un valore di circa 30.000 euro senza mai entrare di fatto nella Pescara a calcio, anzi, sempre secondo l'accusa, qualche tempo dopo Serraiocco cedette il pacchetto azionario a Beppe De Cecco che di lì a poco sarebbe diventato presidente del Pescara per una cifra di circa 38.000 euro, guadagnandoci così altri 8.000 euro. Dopo vani tentativi di risolvere bonariamente la vicenda, lo scorso anno i due imprenditori hanno deciso di passare alle vie legali nella documentazione a disposizione della Procura anche copia dei due assegni versati. Serraiocco, difeso dall'avvocato Vincenzo Odinoi, deve rispondere, oltre del reato di truffa, anche di quello di esercizio abusivo della professione non essendo formalmente iscritto all'albo dei dottori commercialisti.